Ciao a tutti e benvenuti sul canale Roots of Strength. Io sono Marco Gelmini e sono un coach per quanto riguarda la forza. Pratico powerlifting da ormai diversi anni e prima di questo sono stato atleta di strongman e di bodybuilding. Su questo canale condividerò con voi le mie esperienze e le mie conoscenze in questi ambiti con l'intento di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Qui risponderò alle vostre domande e scopriremo assieme tutto quello che c'è da sapere in questo special ambito. Ci vediamo quindi nel prossimo video.